scopriamo la moschea del profeta a medina uno dei luoghi più sacri dell'islam situata in prossimità della casa originale del profeta maometto questa moschea la seconda più importante dopo la grande moschea della mecca è un sito di straordinaria rilevanza storica e spirituale oltre che architettonica la moschea del profeta non solo si trova vicino al luogo dove viveva maometto ma è stata anche costruita con il suo diretto contributo qui maometto è sepolto insieme ai califi abu bakr e umar rendendo questo luogo estremamente sacro per i musulmani di tutto il mondo la struttura originale della moschea che riflette la disposizione della casa di maometto ha influenzato il design di molte delle prime moschee un elemento iconico della moschea del profeta è la cupola verde situata nell'angolo sud est direttamente sopra la tova di maometto questa cupola originariamente costruita nel 1279 e più volte restaurata simboleggia profondamente la fede islamica ed è anche riflessa nel colore della bandiera dell'arabia saudita la struttura è completata da quattro minareti storici che definiscono il perimetro dell'area più antica della moschea nel corso dei secoli la moschea è stata restaurata e ampliata da vari governi tra cui gli omayadi gli abbasidi i mamelucchi e gli ottomani arricchendo la varietà dei materiali architettonici utilizzati l'ampiamento più recente permette alla moschea di ospitare oltre 500.000 fedeli in un vasto cortile di marmo che abbraccia sia la sezione antica che quella moderna nel 2011 un'innovazione significativa è stata introdotta con l'installazione di membrane parasole in ptfe progettate dalla società sl rush di stoccarda queste strutture high tech si aprono e chiudono automaticamente in base alla temperatura migliorando la sostenibilità ambientale del complesso e fornendo comfort termico ai fedeli oltre a essere un centro di preghiera la moschea del profeta serve come un punto di incontro per la comunità musulmana durante le celebrazioni significative ed è un simbolo di unità e pace a est della moschea si trova anche il cimitero di yannat albaki un sito storico dove sono sepolti molti dei successori di maometto un luogo sacro dove l'architettura maestosa incontra una fede profonda e una ricca tradizione culturale se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando grazie 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 grazie